Il 16 settembre avrà avvio il nuovo anno scolastico, l'ERICI inizierà questo nuovo anno con un riassetto organizzativo dovuto alla messa in sicurezza dei plessi scolastici. Sì, è vero. Inizierà un nuovo anno e quello che è stato fatto durante l'estate è stato un lavoro titanico. Avremmo potuto optare per scelte diverse come hanno fatto altre amministrazioni e altri comuni come container o altre strutture esterne. Invece abbiamo voluto fare uno sforzo logistico maggiore ma lasciare i nostri studenti all'interno dei loro plessi scolastici pur con degli spostamenti. Infatti la Paolo Fiori ospiterà la scuola primaria ma anche la secondaria di primo grado al piano superiore. La scuola Poggi ospiterà temporaneamente la scuola secondaria di primo grado di San Terenzo al piano superiore mentre al piano terra verrà ospitata presso l'edificio Poggi la scuola materna Augenti. La scuola invece dell'infanzia Mantegazza di San Terenzo rimarrà in sede con il solo spostamento della mensa che questa volta rimarrà all'interno dell'edificio senza necessità per i bambini di uscire fuori. Assessore vuole fare un augurio di buon inizio anno scolastico a tutti gli studenti? Assolutamente sì a tutti gli studenti, a tutte le loro famiglie, a tutto il corpo docente, al personale ATA. La scuola è una risorsa importante, è il nostro cuore e per questo noi lavoriamo.